ben ritrovati col progetto pomona oggi faremo una trasformazione particolare ossia l'esticazione delle pere serviranno le pere e un piccolo essiccatore andiamo a vedere come fare prendiamo le pere già pulite e andiamo a tagliarle a rondelle cerchiamo di fare dei cerchietti che siano più o meno della stessa grande dello stesso spessore e a questo punto col coppapasta andiamo a levare il centro proseguiamo così con tutte le pere terminato di tagliare le pere andiamo a metterle e a posizionarle all'interno dell'essiccatore copriamo e accendiamo mettiamo ad una temperatura media e lo lasciamo andare per circa 3 ore 3-4 ore finché non sono ben essiccate nel frattempo che loro vanno noi vi facciamo vedere il risultato c'eravamo già avanzati ecco qua il risultato finale